Sto partendo da casa, non so se sono le 4 e mezzo, penso che siano le 4 e mezzo e comunque questo sarà soltanto una parte per iniziare la giornata e poi li ricollegherò a tutti gli altri pezzi di oggi e niente, ci vediamo. Eccomi rega, sono le 10 e 20 e penso che sono le 10 e 20, sono in macchina, da solo ovviamente, non solo, e c'è mio padre laggiù perché sta vedendo sul fiume, perché loro vanno a pescare oggi, scusate la musica ma fa schifo, fa schifo, e nel dubbio io starò in camera appena che arrivo, così almeno creo un po' il video, ricollego un po' tutte le immagini, Ho portato anche il computer, ho portato, quindi almeno siamo al top e adesso termino questo pezzo e ci vediamo più avanti, ovvero quando arriverò all'albergo. Ciao rega. Ciao rega, questo è già il mio computerino, cioè sono arrivato in istanza e eccola qua, non è proprio al massimo però, la cucina è al 5 stelle rega, quindi mangio bene e nel dubbio rega, sono qua, questo è il pan, la televisione, va a cagare, e comunque nel dubbio c'ho il telefono, ma il telefono è sì laggiù, e questa è la mia postazione da Kimi, dovrei fare una live, infatti ora la faccio, tanto questo sarà un video, ovviamente con dei spezzoni perché abbiamo detto che vi ho fatto il video dell'inizio, di quando ero sul ponte e questo, e poi l'ultimo quando riparterò, e poi anche domani, quindi il video diciamo sarà breve, però con vari spezzoni di varie giornate, quindi rega, ci vediamo. E come qua rega, ora facciamo una cosa, con le ciabattine della puma, però va bene, e comunque facciamo una cosa, con le ciabatte andremo nell'ascensore, se mi viene la gente si mette a ridere, però faccio l'ascensore, ovvero che non vado al piano normale, ma vado a... al piano terra, ovvero ai garage, e poi ritorno su, però la chiave la lascio qua, soltanto che io devo nasconderla, devo nasconderla, ok, intanto vi faccio subito, e niente, ci vediamo, andiamo subito rega, Vorca troia! Alcanzo? Alcanzo? Se mi peccano è apposta Alcanzo? E' tutto chiuso Inzaliamo a questo piano Perchè? Perchè? 320 kg, mi sa che a meno reggio Perchè? Perchè? Rega ce l'ho fatta E niente Ciao ciao Eccomi rega sono qua al fiume E c'è mio padre laggiù Non so se lo vedete E si sono qua Abbiamo pescato Abbiamo trovato fino adesso una trota Perchè qua l'acqua è molto veloce Quindi diciamo le trote ci sono Soltanto che però la canna Del mio padre è presso quella più buona E quella più fina Solo con questa corrente ho paura che gliela rompe Quindi bisogna vedere se ne troviamo altre Oppure no Quindi adesso termine il video E niente Ci vediamo stasera quando vado a cena Ecco scusate se nel video precedente ho detto Non so al minuto 10 al minuto 5-10 vado a dormire Perchè ho detto vado a cena invece vado a dormire Però rega non l'ho fatto Infatti siamo alla mattina già precedente Cioè è successivo E nel doppio rega Abbiamo preso qualche trote che sono lì Quattro trote E mio padre adesso sta Cercando di prendere l'altra E ci sono delle zone del fiume Una questa che si pesca con Non la canna La mosca ma quella normale a tocco Per prendere Il pesce e ucciderlo E portarlo a casa E poi abbiamo invece La zona rossa quella no kill Ovvero che non si possono uccidere Con la canna invece la mosca Che abbiamo pescato tutto ieri Che stiamo uccidendo E per portarle a casa Domani mattina parto E dopo pranzo E quindi diciamo farò La giornata su questo video Non è finita Perchè questa mattina Per questa mattina tengo questo video E poi invece per Per la Per la Farò oggi pomeriggio un altro E anche questa sera E poi domattina e basta E da quando riporto dal viaggio Per riprovarlo le Le cose Quindi niente raga Ci vediamo Guardate che monte Io lo so E niente raga Ci vediamo Ciao raga Allora questo è già la mattina Seguente Questa mattina No e dopo pranzo alle 2 Bisogna partire Per casa Sono assonnata Perchè mi sono svegliata adesso E quindi diciamo Questo è l'ultimo pezzo Perchè quando diciamo Faremo le valigie C'è anche mio padre Quindi non posso fare il video E niente raga Quindi adesso diciamo Ancora mangiamo Quindi ancora c'è da fare Perchè ancora sono le 10 Quindi alle 2 partiamo Alle 2 il pomeriggio E niente Ritorno a casa E poi quando ritorno a casa Farò una live Alla sera Quindi questa sera Farò una live E niente ragazzi Ci vediamo Questo video terminato Alla prossima Ciao